ha dichiarato a me Michelangelo mi fa una pippa me l'ho sbagliato allora la domanda è crede che dipenda da questa sua superbia il fatto che non hai successo con le donne che a manare invece no dipende dal fatto che io che abbiamo i chianchi l'ho messo molto più tardi di te e quindi sono stato più pericoloso prima no lo so questo non lo so l'impatto di Mario te l'ho detto già una volta io penso che tu più che con le donne sei una questione di pedofilia quindi non voglio entrare nella storia fino in fondo perché qua ci sta qualcuno che potrebbe arrestarti comunque mi cangio ma quanto mai è una pippa per chi non l'avessi riconosciuto c'è Milo Manara tra il pubblico a me mica vanno apprendendo così grazie a tutti Grazie.